I neolaureati in medicina all'Università degli Studi di Salerno riescono a trovare più facilmente un lavoro ad un anno dal conseguimento del titolo di studio e trovano occupazione nell'area medica. A rilevarlo è Eustation.it, il portale dei media universitari italiani, sulla base di un'elaborazione dei dati del sedicesimo rapporto Alma-Laurea. Secondo questo studio, l'87,5% di quanti si sono laureati in uno dei corsi dell'area medica nell'Ateneo Salernitano, ad un anno esatto dalla laurea, risultano occupati. Subito dopo seguono il San Raffaele di Milano e gli Atenei di Verona, Insubria e Trieste. Ma non è tutto, anche sulla durata media degli studi riescono quelli di Salerno prima ad ottenere il titolo a completamento di un corso magistrale a ciclo unico in area medica. Bisogna partire dall'origine, per avere una buona qualità di persone che poi entrano in un'azienda, in questo caso nel mondo medico, bisogna garantire una buona formazione. Questo è il dovere che noi abbiamo come università e questo è quello che è stato fatto a medicina in questi anni. Io ritengo che si è realizzato, grazie alla convergenza, tante forze, a partire dall'università, dal loro lettore Pasquino, che ha voluto pericacemente portare avanti questo progetto, a tutte le altre istituzioni state vicine abbiamo creato questa facoltà. E poi abbiamo puntato sulla formazione. Noi siamo l'unico campus, diciamo l'unica università in Italia che può offrire un campus specifico per medicina. Sono orgogliosi dei risultati ottenuti frutto di tanti sacrifici, di un impegno continuo e di grande sinergia con tutte le componenti dell'Ateneo, gli studenti di medicina che sottolineano anche che nonostante non fossero stati istituiti a Salerno, 24 su 27 studenti hanno superato anche il concorso di accesso alle scuole di specializzazione alle quali aspiravano i molti prestigiosi Atenei italiani. Soddisfazione anche da parte del neodirettore generale dell'azienda universitaria ospedaliera di Salerno, Vincenzo Vigiani. Il compito dell'azienda è, come dire, rafforzare, ma la sintonia con il lettore, vi posso assicurare, è assoluta e totale, assicurare il contesto ancora di più rispetto al passato per favorire ancora di più la formazione e la creazione di nuove leve di medici salernitani, di infermieri tecnici di radiologia e delle cosiddette lauree professionalizzanti.